In primo piano nel nostro Tg di oggi, la vertenza Cosmopol, sono 53 dipendenti che rischiano di non essere integrati dalla società vincitrice della nuova gara d'appalto del servizio di vigilanza nelle sedi della regione Stamane City dei Lavoratori. Emergenza coronavirus positiva, una badante moldava in isolamento domiciliare a Castronuovo Sant'Andrea, in apprensione anche Gorgoglione, dove la donna ha soggiornato per 19 giorni. Dal settore wedding alle nuove imprese si chiama Young Act, la proposta di legge di Italia Viva che guarda al futuro dei giovani. Stagione dei saldi al via dal primo agosto, ma esercenti perplessi sull'andamento delle vendite scontate partite con un mese di ritardo a causa dell'emergenza Covid. Parleremo infine di calcio, in Serie C il Potenza è sempre più vicino all'iscrizione, intanto il club rosso-blu già pensa al dopo Raffaele. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione c'è la cronaca sindacale con la vertenza Cosmopol. Sono 53 dipendenti che rischiano di non essere integrati dalla società vincitrice della nuova gara d'appalto del servizio di vigilanza nelle sedi della regione Basilicata. I lavoratori hanno inscenato oggi un sit-in di protesta. Per tutti i particolari sentiamo Mariolina Notargiacomo. Non senza ripercussioni il cambio d'appalto del servizio di vigilanza nelle sedi della regione. Sono 53 dipendenti coinvolti che rischiano di non subentrare nell'organico secondo quanto prevedeva l'intesa tra sindacati e la società che si è giudicata il bando raggiunta davanti al prefetto il 31 luglio scorso. L'accordo però è saltato dopo che l'istituto uscente Cosmopol ha deciso di non sottoscriverlo annunciando un ulteriore ricorso al TAR oltre a quello già pendente al Consiglio di Stato contro le aggiudicazioni della stazione unica appaltante. I lavoratori si sono ritrovati in sit-in davanti al palazzo della giunta regionale per protestare. Il nuovo gestore della vigilanza è subentrato con propri dipendenti nell'8-6 determinando una situazione di forte incertezza tra gli addetti della Cosmopol che sarebbero dovuti transitare nel lati città di potenza ma così non è stato. Una avvertenza che come rilevato più volte dai sindacati è il frutto di un bando generato come un vero e proprio rompicapo burocratico che parte dal 2016 nei giorni caldi dell'avvertenza ex la ronda con la pubblicazione di una gara già aspramente criticata sia per la tempistica sia per il taglio al monte orario. Purtroppo ci troviamo nuovamente a distanza di quattro anni dinanzi ad un pasticcio della politica e dinanzi a quelle che sono le guerre tra le aziende e la regione. Purtroppo abbiamo già denunciato quattro anni fa un bando di gara che prevedeva già dei grandi errori. Dopo ore di trattative la Cosmopol Basilicata, ossia l'azienda uscente, ha vanificato tutti gli sforzi non apponendo la firma alla sottoscrizione del verbale. I lavoratori, oggetto di clausola sociale, si sono trovati fuori da quello che è il lotto 6, lotto sulla quale espletavano la loro prestazione lavorativa e sulla quale il bando di gara aveva previsto il loro diritto alla permanenza. A seguito di questo è subentrato alla nuova azienda, l'ATC Vigilanza Città di Potenza, purtroppo portando le maestranze, maestranze che fanno capo a Città di Potenza. Dopo il sit-in, la prossima mossa annunciata dalle maestranze e quella di un nuovo tavolo in prefettura, pare inoltre che l'ATC Città di Potenza abbia volutamente revocato le ferie ai propri dipendenti per assicurare il servizio, tenendo fuori invece quelli in organico con Cosmopol. Stiamo con gran voce richiedendo quello che è l'intervento della prefettura e della regione, perché purtroppo a farne le spese sono sempre i lavoratori, i soggetti più deboli della società. Qualcuno deve risponderci, qualcuno deve trovare le soluzioni affinché questi lavoratori che hanno il diritto al lavoro, hanno il diritto per clausola sociale a rimanere qua, in regione, sull'8-6, hanno il diritto a mantenere l'occupazione lavorativa, la retribuzione e la contribuzione. E siamo all'emergenza coronavirus, sono stati 277 i tamponi analizzati nello scorso fine settimana in Basilicata, di questi uno il risultato positivo si tratta come anticipato ieri di una badante moldava che si trova in isolamento domiciliare a Castronuovo, Sant'Andrea. La notizia però ha creato subbuglio anche a Gorgoglione, dove la badante ha soggiornato i 19 giorni precedenti all'arrivo a Castronuovo per assistere una donna in sostituzione di una connazionale tornata in patria fino all'arrivo di un'altra moldava. Le 22 persone entrate in contatto con la donna, ha fatto sapere il sindaco di Gorgoglione, Carmine Nigro, ignaro dell'ingresso in paese della donna, saranno sottoposte a tampone. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, violate infatti le disposizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Per il resto, gli altri 276 tamponi effettuati nel weekend sono risultati negativi, in giornata invece i tamponi ai 100 migranti arrivati in Basilicata ieri e sistemati in una struttura alberghiera di Ferrandina. Si tratta in gran parte di tunisini transitati da Lampedusa e da Porto Empedocle, tra loro anche 12 minori e 4 donne. Cambiamo pagina dal settore wedding alle nuove imprese. Si chiama Young Act, la proposta di legge di Italia Viva che guarda il futuro dei giovani, presentata stamattina in una conferenza stampa dai consiglieri regionali Braia e Polese. Ce ne parla Mara Risola. Quattro pacchetti dedicati alle nuove generazioni, economicamente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria, con contributi a fondo perduto per alcuni settori produttivi, tra cui il wedding, le produzioni culturali e ricreative e le nuove imprese, ma anche aiuti a imprese e aziende per favorire il cosiddetto smart working. E quanto contenuto nella proposta di legge presentata dai consiglieri regionali di Italia Viva, Luca Braia e Mario Polese, la cosiddetta Young Act. La PDL prevede che la regione Basilicata, per le annualità 2020-2021, conceda un contributo a fondo perduto di Euro 2000 a tutte le coppie che intendano celebrare il matrimonio. Altro obiettivo è quello di rafforzare le capacità delle realtà culturali e professionali, sostenendo l'ideazione e la realizzazione di produzioni culturali made in Basilicata. Prevista inoltre la concessione di un contributo a fondo perduto di 2000 Euro per lo sviluppo di attività imprenditoriali già esistenti, o per la nascita e costituzione di nuove realtà produttive, ma anche per tutti i soggetti titolari di partita IVA, che non possono accedere ai contributi nazionali e regionali. Infine, 5000 Euro in favore delle imprese private, con sede in altre regioni, che consentono ai lavoratori con residenza in Basilicata, o da trasferirla entro il 31 dicembre, di svolgere il lavoro agile o smart working in regione. È una proposta che prova a sostenere i giovani. Noi abbiamo bisogno di creare meccanismi incentivanti che possano mantenere i giovani in Basilicata e soprattutto di sostenere quelle attività dei giovani che in qualche modo in questo periodo di lockdown non hanno avuto la possibilità né di fare attività né di ricevere un incentivo. La proposta che dal nostro punto di vista è quella più dirompente, è quella che riguarda lo smart working. Nasce in realtà da un confronto con amministratori locali, ma anche con giovani impiegati in aziende fuori regione che si trovano in questo momento a lavorare in smart working e hanno scelto di ritornare nella propria regione in Basilicata. Io penso che una prima risposta veloce, rapida e immediata allo spopolamento possa essere proprio quella di consentire a queste persone di continuare a lavorare in Basilicata dal punto di vista fisico, pur essendo impiegate altrove. La cronaca ha sorpreso con 72 grammi di droga nascosti nel centro di accoglienza che lo ospitava. Un cittadino nigeriano è stato arrestato dai carabinieri a potenza. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle ricerche, con l'aiuto del cane shark, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio bazar per la vendita al dettaglio della droga. Ben 19 involucri in cielo fan contenenti, come detto, 72 grammi di marijuana. Ed ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Fai ripartire la tua azienda con La Nuova, Quotidiani, TV e Web. Richiedi il tuo bonus pubblicità 2020, agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50%. Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info-lanuova.net Ripartiamo parlando dei timidi segnali di ripresa che arrivano dal mercato dell'auto per quanto riguarda soprattutto l'usato. In Basilicata il diesel resta l'alimentazione più richiesta, come ci spiega Michelangelo Russo. Il lockdown ha avuto un impatto forte su molti settori, quasi immobilizzante come nel mercato delle auto. Ora però si vedono i primi segnali di ripresa, almeno nel mercato dell'usato. Secondo l'osservatorio di Autoscout 24, portale di annunci di auto e moto, sulla base dei dati ACI in Basilicata nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono diminuiti del 28,7%, un po' meno della media nazionale, raggiungendo 10.146 atti. In fase post-lockdown, primi segnali quindi positivi con il mese di giugno che ha visto crescere i passaggi di proprietà nella regione del 15%. Nel primo semestre la regione si posiziona al diciottesimo posto in Italia per numerosità. La classifica delle province per passaggi di proprietà vede in testa potenza con 6.403 atti, mentre a Matera sono 3.743. Rispetto alla popolazione residente maggiorenne, la situazione cambia. Prima Matera con 226,4 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguita da Potenza con 207,7. Nell'usato il diesel continua a essere l'alimentazione preferita. Secondo l'ACI il 64% dei passaggi di proprietà sono relativi a vetture a gasolio. Arrancano le auto ibride ed elettriche, per ACI solo lo 0,3% dei passaggi di proprietà riguardano queste tipologie. Il prezzo medio di vendita si attesta in generale a 12.400 euro, un dato nettamente inferiore alla media nazionale di 14.400 euro. Per acquistare una vettura a potenza ne servono 12.650, più economica Matera con 11.730 euro. Per l'elettrico si viaggia sui 20.000 euro, per l'ibrido ne servono circa 31.000. Infine invecchia l'età media delle auto proposte che passa dagli 8,6 anni dello scorso anno agli attuali 9,1 anni. Stagione dei saldi al via dallo scorso primo agosto, ma esercenti perplessi sull'andamento delle vendite scontate partite con un mese di ritardo a causa dell'emergenza Covid. Donato Carbonell è andato a sondare gli umori in alcuni negozi di potenza. Vediamo. Della emergenza sanitaria i saldi estivi sono stati spostati in Basilicata dal mese di luglio al mese di agosto. Il suo punto di vista da esercente? La scelta di posticipare il periodo promozionale, il periodo dei saldi, è stata una scelta sbagliata secondo il mio punto di vista, poiché è anche arrivata in maniera tardiva da parte del nostro Presidente. Perché abbiamo già subito due mesi di chiusura, i negozi erano già allestiti per le collezioni primaverili ed estive e quindi partivamo già con due mesi di svantaggio, poiché è chiusi. Secondo lei è stato giusto spostarli, visto che ci sono state difficoltà legate all'emergenza Covid oppure era meglio mantenerli a luglio come sempre? Veramente gente non ce n'è. Poi partire l'agosto o partire a luglio è la stessa cosa, è proprio l'utenza della gente che manca potenza. È la città che non risponde perché purtroppo l'utenza se ne sta andando. E a contatto con i clienti tutti i giorni, qual è la sua impressione per questo mese di luglio appena passato? Comunque è difficile anche perché la gente, ci sono le persone che hanno paura a provare le cose, a starti vicino. C'è gente che per mancanza di soldi non può spendere. Io mi auguro anche che questo mese di agosto, visto che sono stati spostati i saldi, cerchiamo di recuperare anche quello perso, anche il tempo che siamo stati a casa, che non abbiamo lavorato. Avrebbe preferito mantenerli a luglio come sempre, come gli altri anni, oppure crede che sia stato meglio spostarli ad agosto per la clientela? Guarda, io penso che potevano anche iniziare a luglio, perché tanto la paura c'era prima e un pochino è rimasta anche adesso. Rispetto allo scorso anno, come si è lavorato fino ad ora dopo il Covid? Beh, insomma, la differenza si sente. Si lavora a scatti, non si lavora bene. Cioè è difficile. Adesso si può dire che c'è la crisi. E comunque, in giorni di oggi, non per il mio datore di lavoro, io non saprei come potrei andare avanti, perché la cassa integrazione ancora non è arrivata. Penso che ancora non è arrivata quella di maggio, ma stiamo scherzando, cioè è impossibile, è difficile. Quindi spero presto che questa cosa finirà prima possibile e potremo tornare le nostre vite come era prima. Se aspettavamo che queste povere persone che lavorano per noi aspettano i soldi che arrivano dalla regione o dallo Stato per giunta, loro potevano già morire di fame. Amianto, pneumatici, vernici ed elettrodomestici abbandonati alla periferia di Potenza. Si presentava così una vasta zona alle porte del capoluogo lucano a promuovere la pulizia dell'aria che stiamo vedendo in queste immagini. Il comitato Aria Silvana, al quale aderiscono i residenti dell'ex contrade Cugno del Finocchio, Aria Silvana e Cozzale. La contrada di parte è stato lo slogan dell'iniziativa che con la collaborazione di Lega Ambiente ed Acta ha portato molti residenti all'azione di pulizia e sfalcio lungo la strada che attraversa l'area. L'azione del comitato Aria Silvana è solo all'inizio di un corposo programma approvato dai soci, già fissato un incontro con il sindaco della città alla fine del mese di agosto per discutere dei problemi che da tempo i cittadini di queste contrade lamentano. A pagina sportiva con il calcio di Serie C, il Potenza è sempre più vicino all'iscrizione al campionato, ma il club rosso-blu già pensa soprattutto al dopo Raffaele e tutte le novità nel servizio di Luigi Santopietro. Ormai l'iscrizione non sembra più essere un problema per il Potenza, dopo 15 giorni di incertezze, ansie e timori, seguenti alla conferenza stampa della tela decaiata Fontana a Iovino, i tifosi in rosso-blu possono tirare un sospiro di sollievo. Martedì, con un giorno di anticipo sulla scadenza, l'amministratore delegato del Potenza, Daniele Flamia, consegnerà nella sede della Lega Pro gli incartamenti necessari all'iscrizione, gli assegni circolari e soprattutto la fideiussione. Incubo finito? Probabilmente sì, ma a questo punto meglio andarci coi piedi di piombo, anche se tutti gli indizi portano al proseguimento dell'avventura tra i pro per il club del Leone Rampante. Le ultime 48 ore sono state pazzesche all'indirizzo di Via Nazareosauro. Ancora nulla di ufficiale, ma i contatti con l'ex presidente del Potenza, Pasquale Donnarumma, che diresse il club tra fine anni 90 e inizio nuovo millennio, sono costanti e la quadratura del cerchio potrebbe arrivare anche oltre il 5 agosto. Con la data di iscrizione che incombeva, Caiata non poteva fare diversamenti, allora prima ci sarà la formalizzazione dell'iscrizione, poi si procederà al riassestamento societario, che ora vede anche una cordata di tifosi disposti ad acquisire il 10% delle quote. Inoltre a tranquillizzare la piazza c'è anche il fatto che il club sta già pensando al dopo Raffaele, che lascia presupporre la continuità del progetto. Il tecnico siciliano pare aver mostrato dubbi sulla qualità del Potenza che verrà e quindi Caiata e Soci guardano oltre. Nelle ultime ore sono circolati i nomi di Massimo Drago, ex giocatore del Potenza, oltre che allenatore di Crotone Regina tra le altre, ma soprattutto di Mario Somma, da 4 anni senza panchina e attualmente commentatore di Resport per la Lega Pro. Somma è stato avvistato domenica in una nota pasticceria del capoluogo, proprio in compagnia del presidente Caiata. Sarà lui il prossimo allenatore del Potenza? Può essere, ma non sono esclusi altri tipi di rapporti di tipo dirigenziale. In ogni caso Somma già conosce la piazza avendo allenato Potenza nel 2000-2001, proprio con Donnarumma presidente. E allora ecco che tutti i nodi tornano al pettine, non resta che attendere. Inaugurata oggi a Ruoti, l'emeroteca intitolata Renato Angiolillo, nato nel paese del Potentino nel 1901 e morto a Roma nel 1973. Angiolillo fu fondatore e a lungo direttore del quotidiano Il Tempo. L'emeroteca curata dall'Associazione Culturale Giovanile Recupero Tradizioni Ruotesi è collocata in Via Roma in tre immobili adiacenti a Palazzo Salinardi. L'associazione che ha promosso l'iniziativa sta partecipando ad un progetto dell'Unione Europea per la ricerca e la valorizzazione del materiale merografico che sarà realizzato da cinque giovani del posto ed intende, fa sapere il presidente Felice Faraone, mettere a disposizione il patrimonio raccolto a quanti vogliano continuare in questo percorso di crescita culturale locale. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.